buonasera a tutti buonasera facciamo una prova perché ho cambiato microfono vediamo se è meglio o peggio oggi con borderlands 2 modalità vero cacciatore si è borderlands 2 perché aspettiamo aro che non può questa settimana e quindi lo aspettiamo per la prossima e andiamo avanti col 2 volevo vedere un secondo com'è la situazione come ci senti? prova 1 prova 2 prova 3 prova prova ah no tu tu che cazzo te ne frega c'hai sempre senso il microfono eh io lo sentia lo sentia prova si entra da dio si perfetto bene bene molto molto aspetta che metto a posto qua da dio provo la ss si 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 sa 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 si sa 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 siamo in live si 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 mi è un po' sibilante si sente sa 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 vabbè no va bene va bene si capisce tutto ok dai non parlo mai con la sua assoluta fammi sentire un attimo la mia registrazione preferita perfetto ci siamo molto bene abbiamo trovato i nuovi cuffie ho preso quelli lì non c'era proprio un cazzo perfetto ti ricordi di me? c'è che è bello allora parlo con il meccanico della città ma no dobbiamo far prima le secondarie giusto? no voglio far sì sì ah no dobbiamo fare per forza piano B ah io sa che devo vendere un po' c'è delle schifezze dobbiamo fare per forza piano B allora stasera andiamo avanti con la modalità di un velo cacciatore perché volevamo fare un po' di hardcoring che non so se esiste la parola hardcoring ma volevamo proprio andare avanti con questo che è una gran figata ma perché c'ho queste schifezze io? non lo so Franca è colpa tua quella però è carina è sempre bella eh io non so mai cosa tenere ragazzi povera Franca sai cosa manca a Borderlands? che sarebbe figo non so se ne ha messo i nuovi DLC del 3 ma delle robe con le navi con l'acqua ovvio a me sì perché no? sì perché no? con le navi, i pirati in Borderlands perché c'era il DLC però era nell'oceano di Sabia casino ma se io apro il menu per abbassare il volume succede qualcosa così? no semplicemente cioè siamo ci sentono i basti ok ok perfetto va bene così perché era troppo alto il volume sì sì non ho niente va bene Franca cosa stiamo facendo? parliamo con il meccanico della città andiamo a parlare con con Scooter 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 speriamo entro la fine settimana di arrivare a fine gioco e fare subito i DLC Oddio voglio mangiare i tuoi bambini non è altro potrebbe farti male sta trappalando il timpano dimmi entro la fine settimana se riusciamo a finirlo il gioco entro settimana a fine settimana facciamo l'ultimo DLC quello che ci manca l'inizio questo? sì sì è mica l'obiettivo finale sì ma non credo di riuscire a finirlo devo alzare leggermente trasforma questa città in una fortezza di stupendosità volante B fai pausa un attimo scusate alzo il volume che devo regolarmelo giusto no no che abbandono ho sbagliato adesso lo dà adesso è perfetto ti servirà anche questo ridi un qua ti ridi un qua grazie mille guarda 257 gentilissimo perché tu non hai così tanto e così poco? grazie grazie prendi le celle di carburano andiamo a prendere le celle la cellona ah questa qua ah ma ce l'ha già dentro ma scusa ma era così difficile per lui prendere le celle di carburano poverino aspetta che mi si do a terra a terra eh sì eh prendo un po' di roba prendo un po' di roba prendo un po' di roba ah il problema è vero sì probabilmente qui c'è proprio il bug dei caricatori purtroppo eh sì quello è un'autore di scatola sì non so perché non l'ha tolto cioè una cagata pazzesca e invece si porta il bag te ne servirà una terza però ed è che quello che hai dato con l'origine puoi costrare il mio di macella al mercato nero di Erl ah per quello dobbiamo dobbiamo andare da Erl eh? a mangiare una delle mie auto tutta vabbè ah c'è sappa è l'unica speranza c'è sappa era il soldato di sappa l'avevamo già visto l'altra volta è quello sì 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 ah giusto per un attimo vedere se funziona la chat perché vedo che come al solito lì la parte destra non funziona vediamo un po' non so come mai non abbiano messo a posto lì la cosa che cosa? eh no che vediamo di cosa stai parlando funziona la chat? sì ok no non sono veri i numeri che sono scritti lì a destra allora volevo vedere un attimo quali i veri? scusami no che c'è sempre scritto zero spettatori ma non è vero chissà perché non so sono i pierla sono hai aiutato a farne ripartire i motori riparati a restare sconvolto vincetto perché questa città sta per volare è vero si vola adesso eh no ma che cazzo dici? non vola all'inizio lo so stupida stupida oh stupida stupida ora dobbiamo davvero trovare Roland sai cosa? vai a casa di Roland credo che potrebbe averti lasciato un messaggio controllo leganza eh? cacate 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 ma come sei bellino? a vedere? eh beh è veramente figo figa anzi ma sei nuda? ma che nuda? ah no ah no a tannis te sembri un rigabibbo pianto rigabibbo cos'è? eh? eh nuova arrivata prima me lo dai perché sono più figo anch'io come mai? non lo so cacchio di rumori fa cosa c'è? aumenta l'energia c'è dato? no cosa c'è dato? dei danni mi sa buonasera ciao Frosty come va? tutto bene? è questa avevo letto invece di blado fricculo avevo letto ricarica vodafone ti è piaciuta la live di sabato Frosty? la rifaremo poi eh? si con cose fatte meglio la rifaremo con audio meglio perché abbassare soprattutto l'audio del ps4 che era enormemente forte si deve mettere a posto un po' l'audio qui c'è cioè che cazzo ha? e ho lasciato qua dei ricordi dei ricordi? si dei ricordi dell'altro ha detto bello in registrazione basta ma perché non posso mettere dentro la registrazione? ah ok apri il fuoco minchia bene tutto bene tutto bene grazie stasera tutta questa settimana qua manca aaro quindi facciamo Borderlands 2 attendendolo si si hanno detto che non c'è quindi lo aspettiamo facendo Borderlands 2 si stasera Borderlands 2 è modalità vero cacciatore perché si su franco ho un po' di vita eh vita cosa devo fare? parla sono un po' stanca cazzo però sto cercando di capire dove sono i simboli eh no i simboli i simboli no grave errore no io mi ricordavo ci fosse qua un simbolo eccolo eh eh poi ce n'è anche un altro qualche padre e neanche mai i simboli no li trovarli tu che palle prendo le missioni si 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 risposto a fargli qualche favore o qualche centinaio Clapton fa una sorpresa per te tira piedi vieni qui il tuo padrone ti chiama perché dice aggiornamento? che aggiornamento? aggiornamento per la missione penso si 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 mi hai aiutato a raggiungere mi hai aiutato a raggiungere sanctuary tira piedi e per questo meriti una ricompensa ho un nascondiglio segreto molto ma molto distante da dove sono per trovarlo dovrei superare una serie di terribili sfide per prima cosa raccoglimi delle rocce marroni poi sconfiggi uno scag duro quindi rubo il bastone per tutto di Mount Schuller poi dovrei portarmi la testa dei bisogni di mondi e poi dovrei ballare per farmi divertire è maledico trova un nascondiglio è il diavolo si è malvato è da fuori di testa il nascondiglio è quello che serviva ci depositava dentro le cose anche qua no? ti scambiavi tra i personaggi ti ricordi? tra i tuoi personaggi ah è vero si io non mi ricordavo incompetenze di crata ti ha garantito l'accesso su un nascondiglio segreto molto prima del previsto molto bene ho deciso di lasciarti usare quella te lo sei meritato dalle 5 ma cazzo è l'unico momento in cui puoi darglielo dammelo e come facciamo? e poi non potevo darglielo bastarda vediamo se puoi ancora usare triangolo finito mi dispiace secondo me è il trofeo mancabile sei proprio un pezzo di guarda veramente sei veramente un gramma 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 come come il culo marcio mamma mia che gramma no magari la prossima volta che che schifo che gramma ma scusi dai meno qualsiasi c'è la consola la mia cosa è che mi fa fai schifo fai vergognati ti devi vergognare mamma mia mamma mia mamma mia che è? è un in live? chi? osservavo un in live che si scherisse la voce non sta a venire Zer ha bisogno di 20 cc di tostaggine 20 cc di principio eh cc è il campione casual va bene passato per un saluto veloce la grazie grazie frosty poi ci sentiamo e senti pronto per la prossima live sì rigiosamente in inglese alla prossima mi raccomando bisogna effettuare un intervento grazie mille buona serata grazie mille grazie grazie un frammento di eridium ma quante volte devo dirvelo idioti non ottenete superpoteri ingoiando questa roba quel frammento non va bene per il mercato nero non è ancora stato raffinato va raffinato probabilmente potresti portarlo a quella tipa a Tannis dall'alto quella tipa quella tipetta ma questo sta rugando nel rudo fa vedere non è che la situazione è una pandora delle migliori non fare danni a sanctuary ci sono altre missioni no però c'è il tabellone inserzioni sarà disponibile che non mi ricordo se sei disponibile subito è un po' che non faccio la storyboard quindi qualcosa anch'io poi se tanto con te l'ho finito io ma non c'è niente non con i tuoi amici ah si beh si anche con i miei amici giusto allora l'ho finito con te da solo quindi anch'io due volte e poi un dai tavolo cacciatore mi piacerebbe arrivare il cacciatore definitivo però non ho finito la modalità vero cacciatore la modalità vero cacciatore no io mai vuole arrivare la modalità cacciatore definitivo come dicevo Roland ora che Jack ha la chiave della cripta è solo questione di tempo prima che la apra e mi serve un nuovo ventilatore il laboratorio puzza di pancetta la pancetta è per le capiedi e prodotti dell'incesto si comunque questa qui è quella più fuori di testa che ci sia che pazza c'è scritto io penso che abbia dei problemi enormi comunque bene detto questo scusare le regioni qua cazzo fai c'è qualcosa che non va qua cosa devi fare miglioramento eh non so ragazzino personale sì ma io non so qua 118 ma abbiamo un casino noi tu ne hai un sacco io no io non posso migliorare che che figata questo così poco migliorare fa vedere non so perché non ho consegnato a Tannis che ci avevo di fianco paletta ci sta incazzando verla non dici di solito cosa vuoi vado parlando a Tannis allora visto che tu lasciateli così da sola oh cosa hai fatto ho fatto tante belle cosine ah hai acquistato non posso più eccolo sì 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 hai trovato un frammento di Aridium forse Patricia Tannis Patricia Tannis un'archeologa socialmente disadattata può usarlo un po' come te la famiglia no esaurito vado a prendere un attimo la missione nuova cos'è che aveva 4 ah lanciarazzi anche le granate ah cassaforte aumentato vabbò un Aridium guarda sei contenta ne devi più tu adesso però io ho più posto nello zaino non ho capito niente io ho il posto massimo che si può avere nello zaino almeno nella modalità vero cacciatore 39 che è un brutto numero 39 cos'è in grado di creare un foro di proiettile ma non è un proiettile non ho capito cos'è in grado di creare un foro di proiettile ma non è un proiettile è il colo delle Arnie cosa è in grado di fare lo salino è questo che è nato da Darnies siiii ah ok Jack Trions Murphy che casino c'è? non so ma qui non c'è più niente quindi abbiamo mistero medico ho fatto apposto a prenderlo perché sapevo del trofeo va bene allora andiamo da là solo uno solo uno mille saranno tutte granate prendo io vacca poca puttana guarda io col culo che ho c'è la granata guarda bravo ma scusa per uscire la granata mi da la granata mi da il tre psycho trofeo ah non lo so davvero no? ti da trofeo? non lo so tolto l'ultimo poi basta perché non voglio più spendere solo eh liga marcus è rarissimo eh lo so però mi sa che il massimo è la 7 è simbolo della cripta ah simbolo della cripta si vendo 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 dove? sa franca andiamo via da qua però si vai perché stiamo qua da sera uh cazzo se abbiamo detto che dobbiamo arrivare a fine settimana alla fine del gioco stessi c'è da qua sei anni da c'è l'aria dobbiamo far vedere che siamo abbastanza pro eh ma noi siamo dei pronomi eh cioè orca troia dai muoviti dove bisogna andare? sono venduto ma bisogna andare là io bisogna poter fare il trasferimento ovunque o non a Borda Nostra mannaggia la vacca cosa? non è come Borda Nostra che puoi fare il trasferimento ovunque e diventare nella del trasferimento eh vabbè e proteggere la gente di Centauri dove dice che ha questa missione? Trions, vale si tanto ci sono anche l'indicatore lì una possibilità che l'Atlas non vi avrebbe mai ma giusto è del gioco a scegliere il trasferimento il punto in cui ci trasferiamo ma non è vero c'hai Trions magari c'hai nello stesso posto c'hai due trasferimenti solo che te lo dice che è diverso ah hai ragione cazzo dici c'hai nomi diversi sei fumata dei cannoni di una potenza facciamo questa missione no quella apposta trovo un lavoro inizio il messaggio pre-registrato ah i bloodshot ci stanno uccidendo ah fine del messaggio dobbiamo attivare il messaggio ah bello bello messaggio eh i bloodshot l'hanno spazzato via dopo che Roland gli accacciati da century potresti riuscire ad accendere tutto senti di quella pompa ah giusto ma che culo personalizzazione io non ce l'avevo immagino ti ricordo che qui le cose sono divise cazzo mia perché degli oggetti rari io no i pezzi di ricambio i pezzi di ricambio ok vai in fondo vado vado qui c'è gente no io va eh perché per me è difficile saltare vedo guarda che ce l'ho io che so che bisogna far scendere la scala come hai fatto? eh come hai fatto come si scende la scala? col mento come co co come 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 ho preso? conf이네 c'è della gente c'è della gente vedo della gente vedo della gente ah cbrava finiscono male secondo me numero 36 dai si no abbastanza serio miele whats having rabbits released E' questa roba qua E' la Franca Senti che bello che facevano Non l'aveva mai fatto No Imitavano a te Ah è vero che dovevo dividere le cose con te ricorda C'era meglio guidare Franca Si per favore dividiamo le cose perchè eh Cazzo Non lo so vuoi che ci dividiamo durante la missione oppure andiamo insieme No che andiamo insieme scusami Se troppo qualcosa che io non ci sono interessante che mi serve Hai ragione Cazzonazzo non è mica come Borderlands Eh Ah anche Borderlands 3 simile alla pannecose Boh senza energia non si può usare questo Non si può usare il catcheride Venga da piedi Il catcheride Venga da destra o sinistra? Ma sei sicura che non si può usare il catcheride? No niente Andiamo di la Andiamo a sinistra che magari abbiamo il catcheride Andiamo a sinistra Dovrebbe essere attivo quello la Scherch super duro qualcosa ho letto io Quello la Perchè sono partiti in area io? C'è il geyser Cazzo ha un Scherch super duro contaminato eh 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 C'è mi tanto a scherzare E' tuttissimo questo qua? Ah non lo so eh Meno male che poi infliggo di status alterato perchè se no Meno male che c'è quest'arma qua molto potente Ok non c'è l'altra Scherch al panziano Ma c'è un terrore Del cielo Dove sta il terrore? E' morto morto Livello 36 C'è ancora un altro il terrore Si ovvio Dov'è il terrore? Morto E' lino c'è A me di cacca eh Ci danno Si Dino che? E' a me di cacca E' lino che? Di teoria Che te teorie Sono gli schiglini E' esploso Stavo io Spensa la delfa No gli alfa Anziani Gli elfoni Anziani non sono molto tosti dai Eh La precisione è sopravvalutata Qua serve un'altra pompa Ah no il condensatore Cosa serve? Condensatore Intanto che la prendi tu Ci sono dei bulli mong Ah Duro? Paletta Si può sparare nei denti Aspetta eh Boh c'è questo tu Guarda Lancia razzi da vendere Beh 5 mila Tu hai meno soldi di me mi sarà Vado a creare una macchia intanto Si Guida tu dai Bene E con la Giulia guido sempre io dai Sbrigati Vento l'alba Vento l'alba Grazie Andiamo Come si sa fa il turbo? Eh eh l1 Come sto facendo io adesso? Si Ahahahah Clizio 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 C'è qualcuno? Dove deve andare là? Ok dovrebbe essere qui vediamo Si sta ingrandendo Si sta ingrandendo E' questa? Che sberla Si Che cazzo succede? Mi sa che sono le mie granate Sei un po' una testa di minchia eh come al solito Like Visual Con sto penso eh Amo i miei poteri Sono bellissimi i miei poteri Questo che è il personaggio che preferisco Ma quanta gente c'ha Mi piace un casino giocare con lei Mi ha ammazzato 623 punti esperienza Chi? Quello che abbiamo appena ammazzato Figo Torniamo a piedi Eh per colpa di qualcuno Dai sarebbe esploso lo stesso guarda Tu dico io Obiettivamente Adesso voglio vedere cosa posso fare Ah adesso si che posso Moderare anche io la chat Ho visto adesso finalmente Puoi moderarla? E ho messo io la Cazzo la provola Un super duro infuocato Alla madonna Ma li trovi soltanto quindi Nella Nella modalità vero cacciatore Che ci trovi qua? Super duri si Non ci ho fatto nulla Ah no l'ho bloccato Spera che gli sparo in faccia Ma quanto tolgono le mie bombe Ho visto che roba? Ok ci saluta Ci ha droppato un fucile a cecchino C'è da tante gente C'è da tante gente Veramente eh? Boh possiamo andare Ma quanto mi piacciono le mie bombine Bellissime Un po' esagerate eh Un po' esagerate Un po' esagerate Ma dove? Così Un pazzo corazzato Cazzo ma non ti fai una minchia il pazzo corazzato Devi prendere le parti morbide Oh ciò che c'è la granata lì eh Visto quanto tolgono le granate Visto quanto tolgono le granate Togli anche a me la granate Però quello di problemi Sono fortissime Questa pista rapita la città eh Conto gli uomini è bella forte Perfetto Vemus Vemus Mi serve molto anche a Giorgio Spera molto che ti serve per riparare la pompa a favore Inserisci quei cose a banana E il tabellone dell'inserzione sarà carico come un atleta olimpico Di cui i genitori si aspettano un po' Grazie Fattolo Manca uno Ah è quella sopra In alto Non riesco a capire dalla scala Spiantala Ok ce l'abbiamo fatta Soppe pronta a partire? Ora accendile e goditi lo spettacolo Soppe pronta Soppe pronta a partire 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 Pensare Soppe pronta Soppe pronta a partire Soppe pronta a partire Soppe pronta a partire quindi vertica Soppe pronta a partire ma non c'è il tizio che esce ah è là infatti quello che era mai finita non lo troverò mai è Little Mercy vorrei scopare di una minchia non so te dentro per la luce non c'è la droppata però no per la missione c'è la droppa per forza ma l'altra no un high tech ma i proiettili infiniti non ha i proiettili infiniti adesso bisogna no ho detto non ci ha droppato l'arma con i proiettili infiniti e mica lui che te li dava? non mi ricordo che te la dava? sono lui in serie si eh proviamo sui banditi del posto equipaggio l'arma missione che è questa che cazzo è questa qui io so che avevo quello super bart no com'è che si chiama? bandit ah è questa qua si 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 ok 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 è la bandit si aspetta un secondo che ho sbagliato che devo metterla aspetta un secondo che ho sbagliato che devo metterla e tu che cazzo è uguale che io sono ucciso un attimo in una cassa eh ok adesso io non devo evocare d'altra no esatto idem non posso evocare nemmeno io perché non ti riconta? il mio giardino no non è vero scusami sono c'è si vede che no adesso hai capito? scusami l'ho ucciso con quello ho spavato o sparare? niente poi è bagata la missione non lo so no è l'altro bandito che è nato io no ma quanti bandito? mille 300 no è giusto resta resta non ce li dà cazzo questo è un problema eh uno uno forse perché erano lontani dall'obiettivo no adesso qui bisogna andare a trovare gli altri in giro per il mondo no poi ricompaiono qua no no bisogna farli bisogna ammazzare i banditi in giro il problema è che non riusciamo a ammazzarli perché abbiamo troppi statue alterati è quello un problema un po' di tutti immagino è per forza come facciamo non si può finire questa miscimola ma si beh dobbiamo ammazzare la gente oh lì c'è un questo qui dove dove la nostra che l'altra volta ti ricordi si ammazziamo lì cerchiamo di ammazzarli in alcun modo lì ma vedi perché io ho due secondi capito qual è il problema si si lo so quello anche io ce l'ho niente no non ce la faremo mai franca mai ce la faremo sono nella cacca io perché non vedo gente 2 3 3 4 4 4 un po' ce ne sono dai io ci darò può entrare dentro là a fare la missione a fare in quel posto la così ne ammazziamo da lì che posto che posto questo può acqua di trasferimento se è più che posto si si è vero è uguale anche mai problema che mancano le munizioni perché così c'è ci sono casi ci sono le figlie ma un po' qua e si trova per essere anche me si e anche a me allora allora sono insieme che bello questo è molto bello ecco perché allora hanno lasciato che si prende su tutto che sono insieme topissimo fa vedere fa provare me scusami allora i soldi sono insieme le munizioni qui c'è però controlla te si ok ok bo bo anche quelli che raccoglie a terra allora c'è anche a terra su tutto che non c'è problema va bene a parte le armi si non lo sapevo beh venga niente fa il trasferimento allora si e per forza se dobbiamo finire sta missione del cazzo i gavin ti ne mancano porca paletta e non è facile no però ce ne sono tanti tanti qua si si anche domani facciamo borderlands 2 e si si tanto da scriverlo poi nella programmazione come facciamo fra poco sa così livello anche te si vai a ridium poi per ritanto dovevo tornarci per la missione della tarughe ninja però la ridium qua è più raro eh del board del 3 mmm perchè nella età ci sono anche i comunini da rompere c'è la gente da eh in realtà è simile niente siamo ancora a 5 6 ore per caricarla quest'anno nooo eh sempre a 5 nooo eh nooo eh io non so come fare 5 cioè lo uccidiamo con un'altra roba questo è un pazzo super duro mi piace salvarmi si spara con l'altro la nooo spara con l'altro dietro nooo l'altro dietro è molto più forte 6 ho avuto alzarlo così questo qui te ce l'hai già giusto? sirena? si oh beh boh non lo so siamo a 6 veramente siamo a ta dobbiamo vedere se è in testa 7 sono morta quello che è ucciso e lui è ucciso perchè se io vorrei caricare io non riesco a rinimarti stai calma stai calma Franca guarda che difficilissimo non ce la faremo mai secondo me intanto andiamo avanti con le altre missioni e se ci capita 7 7 era già prima tutto sei andato per la vita no? che casino nooo sempre 7 è impossibile perchè non capisco che sono io e sei tu tutte e due io sono ma tu pure vedi? perchè mi sa che faccio esposare la gente quando muore? infatti quindi non tu invece? e quindi come aveva fatto? io ho tutti gli status tutti come aveva fatto però a farne 7 scusami due quelli resistenti tipo per l'attore munanico un attico resistente vedi? e allora lo mazzi e invece no no viene fuori vedi corrosione no era resistente non è no dai.. faith mi ha fatto cadere questo stronzo noandy nooo franca niente niente serio Ok stai tirando i proiettili No è una missione che dobbiamo tenersi per dopo Cioè andando avanti Non riusciamo mica No ma secondo me non ce la faremo mai A farla Non esco il correttino E' morto E' morto in un posto in cui non ci poteva andare Se siete il livello sono andato Sì perché si è accorto con il livello 43 Quindi con il livello 25 l'ho già fatto E' che minchia stavo facendo Questo ho detto no Lo so mia Sì sì Niente facciamo pure il trasferimento indietro se vuoi Eh non riesco a mozzare neanche uno Dai vado vado indietro a fare trasferimento Stai anche morendo Stai anche morendo Stai anche morendo Stai anche morendo Io non so nemmeno come è andata No Franca questa visione qui non riuscirai mai a farla E' impossibile cioè non puoi farla a questo livello Dobbiamo beccare quelli appunto resistenti No no Franca Oh il nomade si Oh no Guarda che si fa tutto finisci Dobbiamo ammazzare i nomadi con quello Nomade? No Non me l'ha dato Di solità ce ne ho uno Di nomade? Fuori un altro Faccio il trasferimento? Sì sì Poi anche quando mi sparo non ritorno indietro hai visto? Capisco più niente io Fa vedere magari sono ritornati questi qua eh vediamo Potrebbe no Aspetta controllo un attimo scusami Beh intanto allora bisogna fare Bisogna attivare l'altra missione quella della Della posta E andiamo a fare la missione della posta Le pioggia, le neve e le miss keg Ma aspettami Aspetami maite eh Tanto servono due macchine lo sai eh? Perché dobbiamo dividerci Tanto non ci passa quella macchina Passare dall'altra parte magari Hai ragione Io sono proprio un po' impedita con le macchine Un po' C'è la gente? Vuoi ucciderla? No sono skeghi Sì Minchiai non capisco se è skeghi Non mi sparava no? Non sono skeghi E sentivo anche parlare io Quora si sono skeghi Non so più dove sono Magari sono morti con le nostre cose passive Dice Ah qua dove? Uh che idea Turino vai per andare a missioni E sono già qua invece dove bisogna poi consigliare la posta Va bene Tanto c'è anche della gente qua Cerca di ammazzarli con quello Allora Gentilmente Bravo Sì, sì, io tengo sempre su quest'anno Molto male Stai attenta però che i proiettini Finiscono e devi caricarteli sempre Sono arrivato Dimmi quando posso partire Oddio, guarda chi c'è No, vi bisogna dire tra qua Ho trovato una bomba Dove devo fare io Aspetta Dimmi se ci sei Ti ha troppato qualcosa Cacca Igar, comunque qua si muore C'è un costume per te Tu lo hai? Adesso muoio e mi sa che ti raggiungo Me lo prendo Come muori? No, no, sono viva Niente, vuoi venire Vuoi attivarla? L'attivo? Eh, sì Devi correre qua Aspetta che però Mi prendo già una macchina No, la macchina c'è, ok Secondo Che fide, ormai ho finito il proiettino Di questa merda qua Sì Vai Ma abbiamo tempo Eh? Abbiamo pochissimo tempo Sì, ma ogni volta consiglio un pacco Però ti dà la fa Aumenta il tempo Porca No, devo usare dentro Devo Sì, sì Sì, no, non c'è la faccia Vai, vai in franza Mi mancano tra Che cazzo di pacchi di merda Non riesco a passare Porco Giuda Non mi fa passare Merda Fa un bagno Sono bloccato Calma, calma Oh Ma dove minchia? Qua dice che è sullo stesso piano di questo Ma che abbiamo pochissimo tempo, eh Io non li trovo No Sì, dai Che cazzo sono incastrata No, non Ah, è qua la scala Vai dall'altra parte tu Che ho trovato qua No, qua sono il posto Dove minchia? No, vai che sopra, cazzo Io non capisco più niente Poi si incastra Dai, dai, dai Ah, è là La vedo C'era che più di attacchi vado dall'altro Ma non rompetemi i coglioni Manca uno, quindi Questo qua Ce l'abbiamo fatta Siamo 12 con l'altra Sì Però mi servono munizioni Quindi se tu le becchi Prendile E certo che le becchi Non servono anche a me Chi cazzo è che rompe le palle E arriviamo Ok, questo qua è fatto C'è un WC Prendila pure tu Non ti preoccupare Poi ci sono degli scudi Ma Niente di cose incredibili Poi dopo dovrò dare un occhio Agli scudi che ho raccolto Ma dove sono Di giù Aspetta se tu li Forse prova a uccidere lentamente Sì, funzionato Allora, fallo tu Perché Ho visto che lentamente funziona di più E dietro un bagno Non l'hai visto? No, non l'ho visto E a ridio? Troppo E L'hai nato? C'era una cassa Tipo quella nella Vabbè che ti hai detto Il mio equipaggio Che cazzo dobbiamo fare C'era tipo la cassa Dentro al cofano Della macchina L'ho vista Ah, l'hai già aperta? Sì Anche questo Ok Cato su tutte Quindi bisogna consegnarla Perché tanto non c'è più nessuno Certo Guidi tu per favore Sì, muoviti Nell'acqua Che cazzo fai? Sì 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 Oddio Oddio Si è visto una tale quantità di emozioni Nella storia di questo servizio Al fucile serviva proprio qualcosa Ho fatto un po' di punti eh Se ho sentito di vedere se succede anche te cosa Ho visto Tu muori sempre comunque Eh perché sto cercando di sto cercando di sto uccidendo piano e muori sempre To To Sto cazzo di ama di merda Funzionato lo stesso Sì Ma tu Sembra che tu riesca meglio Tu non hai Le cose in più Solo se ti colpiscono Eh però vedi È lo scudo franca che hai tu Che se ti colpisce No questo mi sa che sta Forse i crit non devo fare Forse i crit Forse i crit non devo fare Vedi che quei crit esplodono Dici eh Vabbè adesso vengo anch'io lì Comunque non stanno andando male l'altra missione Cioè la possiamo fare Dici? Sì Beh tanto basta andare avanti con le altre missioni e poi lo facciamo Dunque devo vendere qualcosina Sì ma cazzo sono di livello debole questi qua ma che roba Ehi cadene Farca le personalizzazioni da vuoi? Eh beh ma cazzo se anche tu non l'hai fatta A parte che devi 6 di livello intanto Tieni allora io uno l'ho fatta Sì adesso sai non ti preoccupare Uno l'ho fatta Ah va bene adesso devi buttare le altre che riguardo Dimmi Guarda che adesso vendo ste cattine Tipo allora io non l'ho fatta tocare il macromante E lì ti dà No nessuna delle due Vabbè prendi Sirena anche? Sì perché ce l'ho già Ok Grazie allora Grazie al cazzo Ma a chi serve una licenza medica quando c'è lo stile? Guarda qua non ho venuto qualcosa Devo tra le mie cose Ho paura di aver venduto una roba Equipaggiata Adesso Ok andiamo avanti Sì un secondo che devo decidere cosa cazzo fare Che non lo so Tanto che tu sei lì Non so se andranno un po' in giro per la mapa A cercare dei banditi Cercare delle aree Delle aree civilizzate Vediamo un po' Tanto faccio un attimo partire la pubblicità Dice? Sì Io volevo fin quasi No però no perché devo portare avanti qua Su e' questa roba qua Qua sono tutti scherpetanti Che patanta Guarda Qualsiavolo la prima legge? C'è Ma qua Figata Questo poi è il posto di prima Non ci saranno più persone Eh un po' di gente c'è dietro Sono scherpetanti Sono scherpetanti Allora Comincio a vendere cosine Tipo questa qua Di livello 34 Inizia a fare Il trasferimento poi Dove? A Flosburn Questo un po' meglio Si può fare Confronta Si Adesso non potrei posso un attimo, sto controllando cose. Va bene. Eh, un po' meglio. Non di tanto, ma un po' meglio. Cazzo è quello là. Mi cazzo sta succedendo. Eh. Questo non è malaccio. Marimma. Lo sta vendo. Comincia a vendere qua perché. Sono degli animali stranissimi. Quanto ci dà sto lavo qua? 12. Che schifo. Che schifezza. Dele fan gun. Questa la devo vendere. Oh, tragettoni, dai. Vabbè dai, meno male. Scudi anche perché. Non c'è nessuno qua. Ma la missione l'abbiamo completata? Ma sì. quella è di coso? No. Questa qua ce l'abbiamo ancora qua. Certo, infatti ho detto, intanto che tu sei lì, vado a cercare un po' in giro i banditi. Sì, sì, vai, vai. Niente, allora vai a fare il trasferimento, allora. Ci sono i banditi anche da altre parti, spero. Sì. E allora fa lo Spur Canyon. Ci sono ovunque i banditi. Andiamo a fare lo Spur Canyon a fare la cazzo di acqua di fuoco. Vai. Però prima passerei a Centuary perché magari ci sono altre missioni. Vai a Centuary. Tanto chiaramente è molto più veloce del 3, quindi non è un po' qui. Sì, sì. Allora, qui è qua. Scusami, dovevo vedere un po' di cose e cosa fare di specializzazione. Dove mica si va? Ho cercato di raccogliere un po' di proiettili perché dopo ci servono. Qui c'è? Sì. Allora. Io non vedo niente. Neanch'io. No, boh. Aspetta provare un attimo a vendere. Andiamo. Perché tu hai venuto di là? Io non ho venuto. Vendi a Frostbork Canyon. Davvero? Sì, vendi a Frostbork Canyon. E toh, dai. Frostbork Canyon. Ti ricordi Frostbork Canyon? Che bello. Qua adesso non ho capito perché mi sa che fra 16 minuti e 40 parte da solo la pubblicità. Vediamo se è vero. Sono io. Qui sta sparando? Non lo so. Che strano. Il clan dei banditi Bloodshot sembra aver attaccato il covo di Aquila di Fuoco. Probabilmente hanno lasciato dei segnali per i rinforzi. Dobbbero portarti ad Aquila di Fuoco. In alternativa, segui le urla. Fatti indietro, cacciatore. Questa è una faccenda fra i Bloodshot e Aquila di Fuoco. Quando i miei ragazzi mi porteranno il suo culo, pagherà per ogni Bloodshot che ha ucciso. L'appenderemo per i suoi stessi intestini. Beh, una attrezione molto pittoresca. Ehm, cercando di... Eh, bah, fanca, più stessi tu perché io le ammazzo. E ma guarda che difficile. Hai ammazzo una vicenda? Hai visto? Capisco una sega io. Bravo. Te vabbè ci siamo. Eh, ma no, intanto vedete un foodcat. no sono la merda ti aiuto eh si gatti ti aiuto ti aiuto tu continui a sparare ah con l'altra arma ok ti da sparare spara 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 ma questo non me l'ha dato chi è che sta sparando con cattiveria c'ho dietro sopra c'è un golia è un golia duro no c'è rompili a testa quello lì non riesco intanto sta a uccidere a me io l'ho rotta ma si riesce a rompere questo matonoma guarda come ribalza il mitraglione come facciamo per me è questo no posso che esplode no è un passo ci ciò che mi sta abbiamo ucciso un altro vai franza bene ma bene 20 quello là che sta male il nome da inculsore aspetta e io faccio sparare perché non no questo no io ti ricarico intanto che tu spari ok siamo a dirpirla e a me però come facciamo a farlo se non sta cazzo si questo ha funzionato è l'unico modo funzionato che fa qua c'è uno qua in alto vai vai che minchia eccolo qua no questo non ha funzionato merden andiamo a vedere di qua si c'è della gente ho visto un guarda madonna che cazzo è successo sei stata tu immagino eh si eh si eh uuuh ammolo livello 37 comincia a salire a livello delle armi eh e vai era ora cazzo delle minchia di armi livello 72 voglio trovare eh oh dai che ho bisogno un po' di solini così a caso solini piccoli e guarda anche più avanti qua se c'era qualcuno eh no bisogna andare avanti lì eh si vanno no ho sbagliato perché ho colpito la testa eh oh no a tuoi stas dai dai quello lì è un po' più forte degli altri non è un obiettivo normale no aspetta va che venga d'altà c'è il guriaturo puoi colpire ascoltare cominciamo a mazzare la testa cominciamo a mazzare un attimo perché questi qua mettiamo un po' più impegnativo eh ma lascio il nome del muratore in muratore no 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 funzionato in alto c'è un guriaturo riesce a staccare la testa no è mai usato dalla nostra parte l'ho usato non si può staccare la testa a guriaturo l'ho usato sì no no mi puoi aiutare sono giù ci penso io buon grazie ok e no in questa situazione qui un attimino è meglio ma comunque ne mancano due ok ok non correre tu non cambiare lasciamelo eh sì sì ancora uno ti salvo io buon consegno posto via adesso cambiamo armi e dead up pronta oh che bello che liberazione vero abbastanza devo dire cambio l'arma perché mi fa un po' cagare no perché in realtà sono forti ma bisogna prendere altri tipi oh là andiamo a consegnare dopo però adesso finiamo qua prima via ragazzi che roba meno male che c'eri tu perché io ho sempre il danno ho sempre il danno aggiuntivo di tutti tutti gli elementi d'omini di dio perché la sirena è una questa qua è una bestia io non so come ma è fortissima te non hai idea delle ultime abilità che ha poi cioè esplode tutto esplode c'è qualcuno che ci sta un sacchicciatore fai un sacchicciatore dove sei? sono qua è a posto che cazzo c'è? non ha troppato un cazzo ma niente non c'è stato niente no dai ma come il sacchicciatore dai ho avuto un culo così di trovarlo poi lo posso no dai io non ci credo io spero tanto di trovare un'arma rara perché in tutto il gioco con te non ho mai trovato un'arma rara neanche una gialla che rara è leggendare barzooka da vendere fa tutto bene ah si si a me che ti venga salvato ti fai salparperare da solo che schifo c'è un simbolo qua ok dove sei? no diventare il punto dove cazzo sei? inculare entranzi sulla mappa vedi? più avanti dentro la galleria qua? si e a sinistra appena poi tutto per la sirena è uno psico è per uno psico veramente? vabbè tu prendile non ce l'ho mai stato qua sai? davvero? mi sa di no c'è il simbolo lì in basso l'hai mancato il simbolo l'hai mancata l'hai visto però l'hai mancata l'hai mancata l'hai mancata l'hai mancata l'hai mancata se poi devo guardare cosa mi ha dato e che che cos'ho io di supporto hai mancato il simbolo ma cosa fai? dove cazzo è? non lo vedo quasi hai beccato il secondo dove era l'altro di simbolo? dov'è che ho beccato il secondo? l'avrò beccato negli altri giochi secondo nelle altre partite cappaletta non ci hai mai stato lì un esploratore come te no ti ho detto che non ci sono stato ma Borderlands non è così facile da esplorare dove cazzo stai andando tu adesso giusto? guarda la nonna ah si invece qua c'è un'arma blu lo sai eh dove? per terra è lì da quella parte poi ti faccio vedere io voglio c'è una ma leggendaria magari che provi con la ma blu per terra a questa parte qui arriva uno che ti potrà fare una ma leggendaria non è blu è qua deve essere qua così mi piace no ma che cazzo stai dicendo? era qua di solito non avevi preso te eccola qua vedi non sono mica assagnata la maledittoria cazzo è forte questa qua questa è forte si l'ho sempre usata io è fortissima chi è che la usa? ma non sapevi di questa esistenza? non dimmi che non sapevi la uso io? usa la tu ma la droppava guarda come spara ha fatto tutto si si lo so ma la droppava no è lì c'è lì sempre madonna che bestia non pensavo la droppasse io no no io non lo sapevo ma se ci torniamoci ancora poi per te eh non credo la gentaglia qua ma come sono questi ma questi versi cosa sono sono un po' ambigui eh sono gli nomadi ah i formigotti i formigotti che livello era l'arma che hai preso? hai ragione non ci ho guardato sicuramente più alta delle altre 38 mi sa eh 37 e vabbè scoria di merda scoria di merda poverino era simpatico ma è fortissima questa arma qua cazzo l'avevo preso anch'io una volta scusa controllo matio per lo scudo guarda che mi scevo sul divano perché non ce la faccio più qua ah ecco cos'è che ho squadra rigenera energia oh con la anche doveva questa è molto più forte sì 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 vai che ne abbiamo bisogno però dipende dalla dall'altra verità ma non ne hai eh però figa questo cao è una tal roba eh danno critico credenza di fuoco porca puttana ma dove sono che stanno combattendo? Non mi aspetti un attimo che sto guardando L'oggetto bruttino l'hanno lasciato E' una puttanata perché non funziona mai Lo so anch'io ce l'ho ancora con roba lì Eh lo cambio adesso Ah io no io non ce l'ho equipaggiato Ah ok Non so cosa ho equipaggiato Adesso ci guardo anch'io Energia massima Più 40% mi sono messo Fatto bene La prestazione dello scudo Energia massima anch'io Ah ti aumenta un sacco Sì Ho visto Abbiamo molta più velocità di rigenerazione Ci è rigenerazione adesso Bene bene Adesso poi valuterò bene un po' cosa fare Perché Adesso qua dovrebbe uscire uno psycho duro Ma tu l'hai fatto due giorni fa questo gioco qua No Come vieni che fai a ricordarti Questo schermo l'ho fatto di 100 milioni di volte Ah ok Quanta vita ha questo coglione No no ma è da un bel po' che non ci gioco eh Oh vacca che strenghe che tira Cos'altro qua? Micromante Un altro eh Non è che gli sparano i denti nella faccia Adesso sono accorto Sì E ci saluta Armi però sempre drottano della merda Però attenzione Gunzerker niente Questa qua No fa schifo Fa schifo Vuoi prendila su No vendila tu se vuoi Una bella martina Sono contenta per la munizione Sì C'è un Un formigotto Ma lì poi puoi salire o Colpisci Colpisci Sai cosa lui? Il Golia Si Si Fallo crescere il Golia Dai Certo Ma vieni verso di te Ecco Adesso si è che uccidi tutti Così diventano fortissimi E poi c'è l'altro feo Se non sbaglio Stai distante Fagli uccidere tutti Significa Però c'è Klapp in giro Dai Klapp Che cazzo c'è in giro Klapp Klapp Che cazzo dici? Non so Ma tu dove mi sei? Vieni indietro per favore Stai Zic C'è anche il rhythm Nella posta Guarda là Che ci sono C'è la gente Quella gente là Che stava ammazzando I tizi Andiamo a vedere Come sono essi adesso Sì Oh adesso 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 non c'è più Oh cazzo Hai visto? Sì Ma adesso ammazza Quelli lì vero? No Ammazza lui Là c'è rimazzata Così sai di livello Se sta cavando bene Sì 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 da dio Sì sì adesso adesso l'ho ucciso Visto? Lasciamola farla Diventare una bestia Che poi droppa della madonna Lasciamola ammazzare tutti Non toccarlo È ancora un super duro Forse è il massimo No Ci dà il trofeo Quando diventa più forte Beh beh Allontanati Allontanati Perché? Alcino Perché ti bevete a te poi No non c'è nessuno Ah no c'è ancora qualcuno Siamo noi No no c'è un altro giù Alperto dove? E vedi che c'è un rosso giù Dove? Scendiamo Scendi Sì è vero Guarda va c'è altra gente Sono tutti formigatti Cazzo Formigatti Formigatti Aiuto Via Dove? Non lo so È qui Dove? Lo stavo staccato Ok 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 Tutto posto Ma le Sopravviverà? No A quello lì no Dobbiamo aiutarlo A quello lì no dici? No no Ce la fa Ce la fa Guarda va Hai aiutato Hai aiutato Sì sì ok Sì Duro definitivo Sì sì Duro definitivo No non so se definitivo Si è definitivo Ma non lo so Ci sta difendendo Buu vuoi lasciare ammazzare tutti per favore Nascondiamoci noi Ehi nascondiamoci 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 Come arriva da me Io arriva da me Sì arriva da me Vai far tutto a lui A favore Per favore Ci pensa a lui Cari tanto non lo fermano adesso è una bestia Vedi che stanno sparando tutti a lui Sì a poco meno resisterà E' una bestia Fa anche Non lo ammazzano Goliaturo definitivo Li sta massacrando tutti Vedi È una roba allucinante È una cosa che sta volando su tutto Vabbè se lo ammazzano meglio Perché così non dobbiamo ammazzare noi Sì poi non c'è un punto esperienza No dai dai Vedi che noi non abbiamo un punto esperienza Di quelli che uccide lui Tranquilla Stavano solo noi Uccidiamolo Dici che sì dai uccidiamolo Ok 720 c'era Sì però Secondo me non è un trofeo Ma perché non è un trofeo Ce l'ha scritto nei trofei Lo l'ho letto Diamo salsa di pace C'è un altro Goliaturo E' morto Cazzo su C'è un altro Ok Ben canato strada però Può darsi Senza può darsi Ben canato Aspetta che raccolgo su un po' di roba qua Prendiamo bene la ridium Come mai Te l'ho detto che c'è più ridium C'è ridium esattamente come l'altro Bene bene Mi ho più o meno la vita uguale adesso Ma certo perché non droppano cose belle Cioè Non abbiamo ancora avuto Non ci hanno dato ancora un cazzo Non ce l'hanno No Soltanto che stava qui Luca ho preso io Beh perché era del gioco proprio Cioè Non è casuale quella Ok ok Silenzio Cazzo sta succedendo Ma stiamo andando la parte giusta No stiamo andando la parte sbagliata Solo che dobbiamo tornare No giusto Torniamo indietro di qua E torniamo nella stanza Io questa non so molto bene orientarmi Lo so Frank Non ti preoccupare Ci penso io Che che stringa è andato Che cazzo è successo Chi è che sta sparando Sono io No mi stai sparando Che cazzo è come un lanciatore Hai visto? Ma che cazzo Dove avessi è stato la Niente Ah la cosa qua Come niente la cazza Che schifi Attenzione Ma tu hai un brutto scudo? Non propriamente però Perché io c'ho ancora Cosa è la nuova No? Sì anch'io Prefetto di scusare la nuova Questo qua E tu ovviamente Lo scudo leggendario Ma è logico Cioè Non cazzo Di leggendario Guarda che c'è una cassa là qua indietro No assolutamente nulla il leggendario Grazie a meno che mi hai lasciato quest'arma qui Che Ma no perché io uso sempre questa qua La bella Ma che cazzo fai? Perché sull'unica roba è che ti droppano qualche cosa Dici? Ti lasciano quelle cose Qua ci sono gli scudi ancora Noto La cacca Scudi di cacca? Mh Un po' se Cazza Guarda che faccio saltare No è devastato il Golia Molto bene Ah qua c'era il cavo da Le amital Le amital comunque sono le mie preferite Cioè non c'è poco da fare Sì Questa qua è una dalle Dino questa roba qua C'era il cavo no? Sì Quella doveva seguire Ah sì Mi ricordo Per seguire il cavetto Che va fino Allà No Fino là No Sono cascato Puttana miseria Dai Troppatemi delle belle leggendarie Quindi Il tizio là Droppa l'arma con le munizioni infinite Mr. Darcy Come cazzo chiama Quello di Darcy Era lui È vero Non mi ricordavo più È quella col simbolo dell'infinito Sì esatto Che figata Fortissima quella lì Pensa Pensa quella di livello massimo Quella lì Eh infatti Eh sì ci potrebbe Voi hai fatto se a lì c'è una scala? Ma se qua qua Ma Stavo anche pensando Eh Non è aperto la fine di questa cassa Sì no Stavo guardando in giro Vediamo cosa c'è Bello utile Tu trova per te Sirena Ganzerka Che cazzo c'è Ganzerka Ganzerka Sirena SMG Te danno arma No però diminuisce la precisione Posso prendere grazie Guarda che forse Mi ha dato uno scudo O scudo Non hai più spazio Guarda un po' questo scudo per te Anch'io non ho più spazio Dove cazzo è? No tu non hai più spazio E che so che volevi la nuova Allora bottono messo Eh ma io ce l'ho già la nuova Di valore 36 Però non è male E' appunto Cioè so Va vedere Il più potente è questo Buonasera Buonasera Questo qui quando scarico rilascia un nuovo esplosivo Deve ricaricarsi completamente tra una nuova e l'altra Sì sì anch'io io preferisco sempre la nuova Ah ma tu c'hai esplosiva Quella lì invece è corrosiva Quella che ti ho dato Cazzo è per il follo Dorri No dai Decidi su Eh no lo tengo ma non lo Beh però è più forte dai Ha più scudo Eh Dai per adesso lo tengo Buonasera Vai vai Vamos Let's go Noi? No noi no No vabbè noi però no Siamo da Italia vero cacciatore Forse si riferiva a lui Prima volta su Borderlands Se vuoi qualche consiglio Puoi chiedere benissimo Noi più o meno li abbiamo fatti tutti Male ma tutti Cioè tu? Beh sì tu lì no sì Fatti tutti no Si vede infatti Oh no E' il tuo brutto vizio che non li aspettavi mai Ma io sono molto irruenta Bene Sono qui Sei il migliore Eh noi invece vi prometto a rearmirare E' vero lì no? Oh eccolo qua Speriamo che ci sia qualcosa stavolta E' sotto mio controllo quindi non può scappare Ah il predatore Tanto con la sfiga che abbiamo non ti dà neanche un euro Esatto Bene perfetto Nulla Eh sì Eccolo qua un altro Eccolo qua un altro Eccolo qua un altro Farmiamo i nadi però non ci danno una minchia Sì infatti Sono un po' tia che si danni eh E adesso vedrai puntualmente dato che è cascato Vedrai che No deve andare giù eh Fa tutto Vedrai che darà tutto lui Proprio perché è cascato Guarda Tanto che ha me di schifo sto dono Oh là Cosa ha donato? Eh Mino Adesso poi l'ho fatto il giro per arrivare ad attacco Che roba è che ha dato? Ma l'ho dato uno schifo C'è in terra della roba prendi Culo Vedrai qui ho finalmente Sì Higa Finalmente insomma Una bella merdina Io dovevo vendere qua Esplode con una gamma Ma non si può Cioè non è possibile Però c'è un abisso eh Tra il 3 e il 2 Dico di Come quantità di Di leggendare E' certo che c'è un abisso Come quantità di leggendare Ma è una roba impressionante Se la vuoi te questa qua la do è franca Io non La hero No cazzo è venuta una roba Non mi ricordo più chi è la hero Eh io non sono esperta Sì di questo non lo so Non sono esperta È da 4 anni che non ci giudiamo Per forza Beh tu non sei esperta di niente franca Non sai un Una pianta Assolutamente nulla No c'è io ho poca memoria Poca memoria ti ricordava I punti di tutto di questa roba In questa roba si sono in questa La vuoi te questa arma qui o no No tienila io uso sempre la mia shotgun Allora io uso questa qua Shotgun fidata Si ho fatto una cagata qua comunque Hola Beh Questo qua mi salva sempre il culetto La faccia Allora Sì sì ma questi qui sono personaggi vecchissimi I personaggi della play 3 Sì questi li abbiamo presi dalla play 3 Infatti Abbiamo proprio recuperati adesso la qua Anni Sì sì Qui non c'è niente di interessante Ma tutto l'altro che la devi spegnere Tra poco Sembra la zucca via Questi qui sono i personaggi che avevamo in Borderlands 2 della play 3 Sì anche i DLC Ne hai fatti i DLC? Sì 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 mi hai fatto i DLC Sai che non mi ricordo Sì sì infatti Sì sì infatti Sopriamo fare la modalità vero cacciatore Rifrata la storia con i DLC E fare l'unico DLC che non abbiamo mai fatto Che è quello della Di Lilith Del primo del 3 Ovviamente Sentuary Sì La presa di Sentuary ci manca Comunque adesso bisogna fare l'autogia Solo che farlo adesso non ha nessun senso perché Se lo Non lo so Dici iniziare subito adesso gli DLC di Sentuary? No No aspettiamo di arrivare alla fine qua Aspettiamo di avere Almeno così ci sta le cose un po' più belle Perché Sì sfruttiamo gli DLC per avere Qualcosa di più carino Vuoi fermarti qua Rino O vuoi andare Là nel posto? Cazzo Andiamo là nel posto dai Bene vai vai Dobbiamo tornare indietro Dobbiamo fare ancora Ancora tutto il giro Io vado Spedita Tipo questa posso anche vendere Sì Adesso arrivo anch'io Dobbiamo rifare tutto il giro per colpa tua Per colpa mia Dovevo andare a vedere cosa mi avrà dato quel tizio là Eh infatti Resto ancora un po' Vedremo un po' Sì se vuoi Meno finiamo questa missione Vedete Vedete la missione Se riusciamo Che ho adesso? Sono le 850 Che palle è tutta la strada a piedi Eh oh È vero che ho seguito lei Perché se io parlo Non riesco concentrarmi bene sul gioco E cosa ti devo dire? Io volevo andare a vedere se mi ha guardato qualcosa al tizio Raffa al culo Non ti da niente il tizio Pericolo Pericolo Eh se Ma tu dove sei? Ma sei ancora indietro? Sei avanti Io sono avanti Ti devo aspettare O torni indietro di chilometri O vai avanti di chilometri Non sei capace di stare in mezzo Hai due cose Dove sei te? Dai sei quasi Su No è questa mappa che mi mette un po' in confusione Perché Se cadi devi di fatto il giro Ma dai ma se ne stiamo finendo con il nostro essere Che è un casino alla madonna a tutte le macchie Un bordello Di su, giù, giù, destra, sinistra Paravigate, bruttoni zero Guarda qua che hai lasciato qualcosa Cos'è sto schifo La pangolin Mino 1.995 di energia Sì ciao grazie Ma di solito facciamo sempre verso sette e mezzo Durante la settimana Quindi domani sera dovremmo esserci Ci sei una domani sera lì no? Dovrei Ma vuoi fare anche la sorella? Non è che devo essere sempre Bordelance 3 e Bordelance 2 E che Bordelance 3 lo facciamo con un nostro amico Che però adesso è occupato Questa settimana E quindi Andiamo avanti ancora con Bordelance 2 mi sa Sì perché Volevamo fare Arrivare a fare Poi più o poi La modalità del cacciatore definitivo Che non l'abbiamo mai fatto Sì poi vorremmo una sfida un po' difficile Cacciatore definitivo o no ci sono mai arrivato C'è un Ancora un altro nano saccheggiatore Che puntualmente Non ci darà Eh ma che secondo te Un cavolo Puoi fermarlo per favore? Però aspetta Vedi che vuoi lasciare della roba È vero? Ti ricordi che lasciare della roba Dai questo è giù dentro Prima che c'è Ok qualcosa Sì ma guarda Ma tutti Cioè Mi dà più roba il Golia Non lo so Le Golia? Eh il Golia dun Ma questa lì E qua che c'è Che cazzo è che non capisco ancora C'è incazzato È infuriato Poverino Prendi quella cacchia di roba È esploso tutto Certo Guarda qua quanto iridium Eh quattro Cioè non è che possono essere tutti i quattro blocchi E mi piace un sacco il blocco da quattro Ti fa venire fame? Sì Eh no infatti No ma infatti aspettiamo Dobbiamo prima arrivarci Dobbiamo fare tutta la modalità vero cacciatore Che puoi arrivare lì con ambi decenti E questo è definitivo Lo so che è difficilissimo Se non sbaglio è sempre In lotta per la vita Però ci sta Provare a farlo Allora vedi Io non l'ho mai fatta No neanche io Ma perché Ci starebbe Perché io mi sono appassionato il Borderlands quando erano già usciti tutti No tutti no ma c'era l'1 e il 2 Però quando ho finito il 2 poi ho ripreso l'1 Quando ho finito l'1 è uscito il pre-sequel E allora non sono mai stato dietro a farli completamente Sì Fai attenzione ci saranno trappolini O andarono a tutti qua mi sa qua qui Sì andiamo Facciamoci seguire dall'amico Sì qua è qua il simbolo A questo non ricordavo questo qua Ma forse l'ho già scoperto Non so se questo E' questo? Ma sì secondo me hai già preso questo Dove? Per questo è abbastanza visibile Questo si vede Scoperto mi dice Ma quanti gettoni duri ho? Uno dai facciamo Cadenza di porn Credo che ce ne dobbia proprio cambiare le armi comunque C'è altro da dire Eh però sì Cazzo sono anche per il posto in cui siamo adesso Non è che Non so si puoi girare che c'è un duro dietro di te Ah qua E' morto E ci vuole così poco Franca madonna E' death trap Che fa fuori tutti Comunque veramente non droppano un cazzo Nulla 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 Anche il bottino raro più 5 cos'era Nulla Non serve niente Ma tu hai ancora No no non ce l'ho mica Che bordello Ho tolto a posto Sei morto? No ma non è mica un problema Sì però se me l'amazzi tu al posto mio è un problema Perché poi non torno Forza Forza Come sei gentile Non hai spi munizioni? No che hai un fucile a pompa Non ho munizioni? No 17.81 è un mitra o un fucile a pompa? Cos'è? E' una shotgun Fucile a pompa Che che sui verare Sto beccando tutte le tappole Da uno di die Ma va che bravura Allora ma il problema è che con lo schermo piccolino così Già c'è anche il coder alive Non si fede un cazzo E se vedrai quante fuo Quante Ho c'ho qualche bilanazione L'equilibrismo Via Ah hai fatto una spida Ma che figo Sì ci sta Bello Quando pensi omicidio Pensa a munizioni Marcus Noi non l'abbia mai fatto una spida Ma che fa schifo Che facciano schifo Scusa tutto te Da Allora Quando mi impegno Però sono bravo No Anche se hai buttato dentro Crash 4 Perché No non ho buttato dentro Oggi ho giocato dieci minuti e ho buttato dentro Perché non ho bisogno di prendere cose insanity No Madonna Sono poi nervosita Non era giornata Non era giornata Facciamo qua Battiamo acqua di fuoco Poi non puoi dire che è facile Guarda guarda il video Ma che è successo Ma ho capito E l'allenamento Infatti ci sta Però ma è molto più forte rispetto agli elite Beh ma perché io Sto con i rai Beh sì in teoria sì però Currala Ah no non la curata Non mi ricordo più Porgile la mano Aiutala Ah no sì andala curata No faccio i rai No pezzo di merda Dai tanti Dai qui ti hai l'energia L'esperienza vai Eh scusami ho più io di esperienza Che non so perché l'hai di più te eh L'esperienza qua È un mistero eh Che di solito non lo so più io Perché ammazzo più gente Sono più bravo Eh non so se qua C'è differenza tra i critici E ridiamo subito Dopo parli Beh non bisogna Non bisogna parlare Dade ridiamo Eh Vesti drogati Sa Già la roba è qua Me la dai Lo apprezzo Se ben circospetta Passo felpato Hai visto La mia skin Più schif Che skin Tu cosa fai così Io sono molto più figo Anzi figa va che roda Comunque Divertente perché prima di entrare Nella cutscene C'ero io che avevo già colpito i nemici Sì sì ho visto Ho visto Guarda io posso stare anche fermo Che ci pensi la mia sferina Super potente Guarda guarda che bella Sì è vero fa solo Sì è fortissima però la sirena Sì sì Sai che anch'io Io adoro questa Io con gli altri faccio questa Con gli altri usavo la sirena Davvero Sì Adoro assolutamente questa Questa build L'ho fatto tra l'altro caso Perché non sapevo neanche che sarebbe successo la pò da leggere Che casino Dore Super dore Dore è dure È lì in alto Fammelo mirare Occhio Sì sì ma ci pede Occhio occhio Sì sì ma ci penso io Vedi che infatti è bello tranquillo lui Non è andato anche a prendere il citofono Sì riesci Proteggimi Prendi delle unizioni Non è una verità Ma fai sì Nessun microfono utilizzabile Sì hai preso il microfono L'ho staccato un attimo Il microfono è connesso le cuffie Sì è colpito I durietti Sì ma li ammazziamo noi Ok scusami Sì sì non è tornato Sì c'è stato un attimo Uno si è staccato Poi questa qua Fa che che è Questa qua aveva un fucile a cecchino Nivello 35 Ma sono così forte Ah Tutto bene Tutto bene Sì Non sono ancora chiesto a te Vabbè no io sto bene Sti lunatici Non mi vale nulla Ma quanto mi piace le mie nonne Le mie nonne Le mie nonne Le nonne Se l'ultimo è finito Allora Mi ha arrabbiato questo qua Ok ok Mi sta salendo Capisco Questo sto usando la schiena a uno Anusando Sì Mi puoi dare una mano Arrivo arrivo Grazie Devi anche salvarmi Mi sa Non è che il paziente Dicare tra di loro No Dicare tra di loro 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 Sì grazie Molto gentile Una morta Perfetto Perfetto Ciò sempre con me Ciò Va bene Un po' è un po' Un po' Un po' Un po' è un po' Cos'è qua? Cos'era? Max munizione Lancia razzi Direi che non me ne frega Assolutamente un po' Bravo Da è troppo Così si fa Dobbiamo curarla E la cura ancora te Immagino No dai Lascia la mia Cazzacca E ridiamo subito Parlando Subito Farò anche subito E ridiamo E sgancia le ridim Non abbiamo molto tempo Trovami Già La roba è quella Me la dai? E' ben arrogante Già Dall'apertura della cripta I miei poteri di sirena Sono diventati un po' Incredibili Grazie a questo eridium Non so perché Ora parliamo di come salvare il mio ragazzo Parliamo Mai Boh Fin Ovvero a quei fuoco ti ha detto che Roland è stato colpito dello stesso clan di Manditi che ha invaso suo rifugio e devi salvarlo Lo salviamo Beh ex ragazzo Abbastanza schifissimo Prima che lo catturassero il bloodshot Roland si stava procurando informazioni sulla cripta e su cosa Jack vuole fare Poi vediamo i trofei perché non l'abbiamo mai fatto su PS4 Sì Cioè Ok Ah Andrà alla grande Non ti muovere Ah e non mi muovo Beh sei ben Disciplina Ti ho appena spostato di cosa? 3 metri? Mi dispiace mi ci sto ancora abituando Il che mi ricorda la bloodshot Stronghold è piena di gente tosta Ti conviene allenarti un po' prima di affrontarlo Chissà com'è il VR con il VR Borderlands Non lo so Non so Quello mi piacerebbe provarlo Potrebbe essere interessante Non ho letto le cincenze sul VR Adesso A posto Usciamo da qua Sì E bomba Magari Dory l'ha fatto sul VR Non lo so Magari Potrebbe Però forse sia un purista Magari no Non lo so Ma È un'arma blu Ma tu come fai? Io neanche la vedo Ah e la Eh c'ho l'occhio di falco io No aspetta un secondo perché poi non si può più tornare indietro È una shotgun Sì è una shotgun Aspetta un attimo che forse c'è un Eh vedi che prima ci sono dei tesori qua Apriamoli Vai vai Sì prima di cadere Per favore Prendiamo tutto Comunque poi dici Dory dove Se fai un video della speedrun volentieri Andiamo a vedere se è su YouTube Se è il 31 La sera no perché siamo in live con gli amici a fare Dell'orrore Qualcosa dell'orrore È giusto Però Qualche gioco dell'orrore Però Basta Torno indietro e vado a vedere là Però Però interessante come cosa Interessante sì Andiamo a vedere volentieri se carichi su un video O su YouTube o spai un video su Twitch Ah era qua Non ce l'ho sa cagata Ah quando è esploso il psycho duro Prendila tu Fa cagare Sei proprio Guarda non dico cosa sei È un trash master la Franca Hai detto anche Camion dell'immondizia Ok è a posto Che schifo Possiamo Facciamo Possiamo salvare qui Sì tanto consigliamo poi la missione un'altra volta Sì sì la possiamo Ok dai Sono le 9 Giusto? 9 e 7 9 e 7 Perfetto Ragazzi ci vediamo domani ragazzi Grazie per aver seguito Grazie mille Dory Grazie mille Mi sa che sei disconnesso Dory Adesso comunque guardo anche sul suo profilo Grazie allora Si è messo Ok Si è fatto qualcosa Va bene perfetto Grazie allora Ci vediamo domani sera Buona serata a tutti Grazie mille per essere Passati con noi Ciao ragazzi Buona serata Da Franca e Da Lino E la Franca de Merda Ciao Cazzo dici Grazie mille